Buongiorno, sono Andrea della Spirit. Oggi vogliamo presentare un apparecchio che è stato aspettato da molto tempo dagli appassionati. Si tratta dell'R27. In pratica è un D27, quindi un apparecchio combo con il DAC al suo interno, un amplificatore cuffia bilanciato e l'uscita preamplificata con controllo di volume, che passa dalla conversione col doppio sabre alla conversione R2R. Tiro su questo pannello per farvi vedere i moduli di A7 che non sono altro che dei Rockna che King Wa, il progettista dell'AudioGD, realizza su licenza. Sono in tutto quattro moduli. Se voi avete dimestichezza col catalogo AudiogD, vi renderete conto che questo apparecchio assomiglia tantissimo a un DAC che sta andando per la maggiore in questo momento, si chiama R8. C'è un motivo, in pratica la base di questo apparecchio è in tutto e per tutto un R8. Quindi configurazione quadripartita, fascia anteriore con la tripla alimentazione, due per i canali audio linea e uno per conversione e acquisizione segnali digitali. Le parti laterali, quindi relative allo stadio linea. Sotto questi moduli R2R troviamo quelli che potete intravedere qua, che sono i moduli di controllo di volume con la scaletta di resistenza e in pratica la fascia centrale dedicata esclusivamente alla sezione digitale. Ora, questo apparecchio perché è stato richiesto a gran voce a King Wa? Perché in pratica il D27 con il doppio sabre non era mai stato considerato il vero e proprio successore del Master 11. La linea Master che per i DAC si è interrotta un annetto fa, in pratica era basata sui Burbrau 1704, che erano dei chip molto richiesti dagli appassionati perché è una timbrica piuttosto calda e naturale. Il doppio sabre, vi sicuro, nella versione King Wa non è per niente freddo, anzi, forse è la massima risoluzione possibile oggi per quanto riguarda la definizione. Gli manca magari quell'accenno di calore che può avere la tecnologia R2R, che è tanto apprezzata perché in pratica unisce queste due necessità, avere alta definizione del segnale ma anche una timbrica calda e morbida. L'R8, in pratica, è un DAC che racchiude questi moduli ma viene fatto un minimo, diciamo, di risparmio per quanto riguarda la produzione rispetto all'R7, che è il DAC top di gamma. Cosa cambia? In pratica lo stampato ha molti componenti in SMD, che costa un pochino meno a realizzarli, abbiamo anche il telaio leggermente più leggero, uguale a quello di 27 per intenderci, mentre la linea Master 9, per esempio, da cui prende l'architettura circuitale, ha le piastre spesse, qui invece sono degli scatolati. Poco importa, la macchina suona veramente bene. Ora, la differenza grossa che abbiamo tra una conversione Sabre e un R2R, in questa macchina viene fuori in maniera abbastanza eclatante. In altre situazioni, quando abbiamo potuto provare i DAC a confronto, c'era sempre qualche pezzo della catena che in qualche maniera poteva variare e quindi falsare il risultato. Qui invece abbiamo due macchine identiche, praticamente in tutto, dove solo la conversione invece viene upgradata. Direi che il risultato è in attesa con quello che erano le nostre aspettative, riprende il sound del Master 11 e lo migliora decisamente. Mentre il Master 11 aveva un leggero timbro ambrato, questo R27 ha un suono caldo ma non è ambrato, non ha questa colorazione residua e poi ci porta anche nel mondo del DSD e dell'alta risoluzione. Come nell'ultime versioni degli apparecchi audio GD è possibile ordinarli anche con dei piccoli upgrade, come i clock e l'alimentazione isolata galvanicamente per la scheda di acquisizione USB a manero. Ora, un altro particolare che volevo farvi notare, per far capire anche quale prestigio ha voluto dare a questa nuova macchina, il D27 arriva d'ufficio con questo telecomando, mentre l'R27 ha il telecomando della linea Master. Ora, vi aspettiamo per ascoltarlo nelle prossime fiere o qua direttamente nello showroom. Alla prossima!